Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci tramo a casa di San Michele a Montefettolini, tra un certo di foto campane, adesso ascoltiamo stare per le 6 e mezza, per fare davvero sedere, saranno due campanoni e due piccoline, ascoltiamo, battito mezz'ora sul campanone, quindi presto guardo campanare, io toscuto a tutti, ciao! Grazie! Grazie! Grazie!